olli cioni verdi benvenuti ben ritrovati in questa nuova video pillola tratta ispirata dal besprato academy planner se non sai che cos'è il besprato academy planner beh vai nel link in descrizione perché si tratta dello strumento applicativo del metodo besprato per avere un prato sano forte bello tutto l'anno tra le altre cose stiamo proprio in questi giorni progettando la nuova versione quella per il prossimo anno con delle importanti novità siccome sarà un'edizione limitata se sei interessato ti consiglio di andare nel link in descrizione e prenotare la tua copia questa settimana al besprato academy planner ci ricorda che non c'è solo il prato in giardino e che tutte le piante hanno bisogno di un qualcosa prima dell'arrivo dell'inverno ed infatti l'approfondimento di questa settimana riguarda proprio le ammendature le concimazioni da fare nelle piante come le siepi le alberature gli arbusti del giardino prima della stagione fredda nella descrizione di questo video troverai un approfondimento all'interno dell'approfondimento sono indicati i prodotti da utilizzare nelle varie tipologie di piante del giardino e assieme ai prodotti ovviamente troverai anche la modalità di somministrazione e i dosaggi per quanto riguarda il prato un bravo pollicione verde solitamente a questo punto dell'anno ha quasi terminato tutte le operazioni forse gli rimane ancora qualche trattamento di aiuto di stimolo di protezione da fare durante il mese di dicembre solo se il meteo lo permette e come al solito andiamo a leggere i consigli di micio micione la mascotte di besprato direttamente dall'academy planner questa settimana micio micione ci dice di concimare il terreno sotto gli alberi lungo tutta la proiezione della chioma micio micione ha ragione le concimature degli alberi le ammendature organiche non si fanno nei pressi del tronco ma sotto tutta la proiezione della chioma